Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Eccoci qui, con camera! È occupato! È occupato! Questa stanza già c'è il marito dentro! Ma è occupata questa stanza! Chi è lei? Qual è il tuo nome? La prima cosa che visitiamo oggi è... Rastoke! Il borgo di Rastoke, un villaggio conosciuto per i mulini, le cascate e i gatti! Ah, che bello! Mamma mia, fina canna da mosca! Sì! Hai fatto già amicizia prima? I mulinari! Allora, siamo all'interno del mulino! Perchè gira l'avventura della patina? Oh, mi piace! Benvenuti in Croazia! Arastoke! Arastoke! Ora proviamo pane, focaccia, pane con la forfasella, pane con il formaggio, cheese and honey! È morbida, non fa male! Non fa male! E va bene! Allora, sarà potente! Allora, l'abbiamo in chrono! L'abbiamo in chrono! Allora, Di una volta... Va bene! sta piovendo proprio adesso piove che piove non piove da mesi l'aria calda fa un freddo quanti gradi ci stanno? io lo so 18 gradi la giornata è molto uggiosa che freddito mamma mia erano 10 gradi 10 euro colazione 10 euro oggi una sfiga mai vista ma veramente? non piove da 70 mesi c'erano 200 gradi si ci va andò po? un percorso non è che belli così non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info bellissimo e bellissimo riparte per Zahrad dopo questo bell'inverno si aprirà il prossimo capitolo della vacanza siamo tornati all'aeroporto, abbiamo postato la macchina adesso che andiamo in un albergo? abbiamo prenotato un uber che ci porterà nel secondo albergo sulla costa cos'è questo suono? viene da qua è il suono dell'organo marino l'acqua entra qui sotto e quando entra qui sotto produce un suono questo è il suono del mare la voce del mare questo è è la nostra prima gara a Zahrad congelata congelata proprio la nostra Iacuzzi vista mare? vista mare, guarda che meraviglia no, certo, certo per il centro della città non ci sono Grazie a tutti. E' una esibizione di pianto. Da me si usava la pizzica pizzica al massimo. La pizzica pizzica con la lotta libera. Al Pacchero, un ristorante italiano dove parlano italiano dove cucinano italiano. L'occhio è buona, si mostra molto 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 buona. Ho cambiato animale, non c'ho più il gatto. Niente tigro, è diventato... Ehi! E' aggitatissimo! E' bellissimo! Ciao! Ciao! Stefano si è vestito abbinato alla nave. E' bello! E' bello! E' bello! E' bello! E' bello! Naturalmente dopo ore e ore di navigazione a questa spiaggetta qua privata. fa proprio troppo agente ma non c'è nulla. Non c'ha un nome questa spiaggia. Però è bella questa spiaggia. E' bella questa spiaggia. Facciamo un castello... No! Poi fa una gettata. Porti un po' di cemento appresa rapida e fa una gettata. A Breccia ce l'avemo. Quindi per trovare un po' di pace stiamo andando... Vediamo. Figuriamo un sentiero. Understand? Preg��iliamo per la vita!